L'Imperia è la capolista solitaria del campionato di eccellenza grazie al 2-0 contro il Sestri Levante. Protagonista assoluto del match è il nero-azzurro Edoardo Capra, autore di una doppietta. L'avvio della gara ha visto poche emozioni nella prima mezz'ora di gioco, mentre al termine del primo tempo il match si è animato con qualche occasione da entrambe le parti. Protesta da parte dell'Imperia al 36esimo, quando su un duro intervento di pane e danni di Giglio, i nero-azzurri chiedono il cartellino rosso, ma l'arbitro si limita all'ammunizione. Nella seconda frazione di gioco, Mister Lupo passa al 5-3-2, inserendo Carletti e Boggian al posto di Salmaso e Sassari. Al 16esimo del secondo tempo, Capra trova il gol del vantaggio. Al 35esimo ci prova Sancinito dal limite, ma la palla si perde alta sulla traversa. Il Sestri al 38esimo segna un gol, subito annullato per fuorigioco. Poco prima dello scadere del tempo, il Sestri resta in 10 con l'espulsione di Bergamino per doppio giallo. Durante il recupero, Capra trova la doppietta. La sfida tra i leader si conclude quindi con l'Imperia sola in testa alla classifica. La sfida tra i leader si conclude quindi con l'Imperia sola in testa alla classifica.